Ciao ragazzi, questo è Baby Cutlass, è un cutlass fatto con una lama olimpica taglia zero e componenti di olimpica e pomello metallico. Non è niente di nuovo nell'universo perché i giovanissimi usano sciavole di questo tipo in gara. Perché ve ne sto parlando? Perché è un buon attrezzo per la storica. Vi ci potete allenare in casa, notate che sto facendo mulinelli, parate, eccetera, e non ci sono mobili che fanno crack. E' valido per simulare la scherma di coltellaccio navale, perché le dimensioni sono quelle. Certo il peso no, e infatti con questo non vi farete male. Infatti ci giocano i bambini e lo fanno in sicurezza. Buona giornata.